Il crimine è un buon affare solo se corre alla velocità imposta dall'economia. Domanda, offerta, costi, ricavi. Tutto il contrario delle organizzazioni criminali che impiegano troppo tempo a capire che un'attività non è più remunerativa e ci rimettono soldi e uomini. Ai cattivi ragazzi di Leeds interessa solo il denaro. In realtà non è esatto. La loro ambizione è correre più veloce di tutti, inebriati dal respiro corto della sfida. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS